Natale significa soprattutto generosità e tendere una mano d'aiuto al prossimo. Lo sanno bene qui a Spazio Conad dove ci troviamo oggi al Rossini Center dove dal punto di ristorazione con Sapore Conad oggi sono stati offerti 60 pasti a persone in stato di povertà, persone senza fissa dimora, quelle assistite giornalmente dalla mensa Caritas Diocesana e che vengono accudite anche nel punto d'ospitalità di casa Tabanelli. 60 pasti tra lasagne, pollo, patate e bevande che rispondono appieno allo spirito natalizio. Abbiamo pensato di organizzare questa giornata proprio per fare un gesto concreto nei confronti delle persone che oggettivamente in questo momento hanno più bisogno e sono più in difficoltà. che fa parte del nostro modo di fare impresa, è un legame verso il territorio, un legame verso la comunità e devo dire che il regalo non lo stiamo facendo noi a loro ma lo stanno facendo loro a noi perché da questa esperienza molti dei nostri dipendenti hanno chiesto a titolo completamente gratuito di poter collaborare, di poter dare una mano e questo ci riempie di soddisfazione e di orgoglio proprio perché in un'occasione come questa riusciamo a essere vicini proprio a coloro che in questo momento ce lo chiedono. L'aiuto dello Spazio Conad è un aiuto importante per oggi perché ci regala un momento veramente di accoglienza e di comunità ma è un momento importante ed è un regalo importante per la città perché promuove uno stile che è lo stile di condividere le fragilità delle persone che magari in questo momento sono in difficoltà per cui la loro iniziativa, la loro voglia di invitarci a vivere un momento gioioso insieme speriamo sia di buon auspicio anche per tante altre iniziative che si possano diffondere nel nostro territorio.